Ben ritrovati alle previsioni meteo di oggi martedì 15 novembre. Affoggia cieli in prevalenza poco nuvolosi con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. Non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20 gradi, la minima di 10. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da sud sud ovest, al pomeriggio deboli e proverranno da sud est. Nessuna allerta presente. Per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata.